Musica Ben trovati anche per la pagina sportiva della TG Noi, l'apertura dedicata al calcio, alla Lucchesi domani impegnata su un campo difficile e storicamente ostico come quello di Pontedera, però i rossoneri hanno un bisogno assoluto di vincere. Sentiamo le ultime da Guido Casotti. Alla settima di campionato e con la casella vittoria ancora ferma a quota zero, non è un bell'andazzo quello che finora accompagna il cammino della Lucchese in questo scorcio iniziale della stagione. Chiaro che la trasferta di Pontedera giunge in un momento piuttosto delicato, anche perché si ha la sensazione che a questa squadra manchi sempre qualcosa, in un modo o nell'altro. Continuità, concentrazione, equilibrio, fluidità di manovra si sono visti solo a intermittenza, a sprazzi come testimone a Rocambolesco 2-2 con l'Arezzo di domenica scorsa. Sono molti gli aspetti sui quali Galderisi ha lavorato durante la settimana, nel tentativo di presentare una squadra finalmente convincente nell'arco dei 90 minuti. Chissà, intanto non dovrebbe mutare l'atteggiamento tattico con la difesa a tre, una linea mediana folta e un attacco che spera di ritrovare l'efficacia perduta. Al Mannucci, Lucchese inizialmente in campo con Nobile in porta e specie Dermaco e Capuano in difesa, Florio, Bruccini, Mingazzini e Nolè o Cecchini in mediana, Terrane e Fanucchi alle spalle del centroavanti forte. Pontedera è un campo tabù, quasi stregato per la Lucchese che da quelle parti non vince addirittura da 48 anni, da lontano 15 dicembre 1968, quando i rossoneri si imposero 2-1. Venendo a tempi più recenti, ovvero agli ultimi due anni, possiamo annoverare solo cocenti delusioni. Nel dettaglio, il 7 febbraio 2015 il Pontedera vinse 2-0 e la storia si ripete il 20 marzo scorso, quando ancora il Granata di indiani Giovannini e Berola Meglio per 3-1. Tra l'altro sarà anche la gara degli ex. Nel Pontedera ci saranno risaliti e calcagni, quest'ultimo uno degli eroi della storica promozione di Correggio. Ancora calcio, ma andiamo in serie D. Giornata importante, impegni casalinghi per Viareggio Giviborgo in trasferta, il Real Forte Querceta. I problemi societari per ora non si sono risolti per il Viareggio, che domenica alle 15 ospita allo stadio di Pini il Recco, penultimo in classifica, del Viareggio Stefano Marinai, giocatore anche di bici soccer e del Versiliese Luca Mario Ana, il Recco e Reduce dalla sconfitta di 3-0 con il Sestri Levante. Guai a distrarsi però, perché le insidie sono dietro l'angolo. Mister Masi recupera Villagatti in difesa, seppur non al meglio, con Guidi, che potrebbe giocare forse De Filippi al suo posto, visto che per non rischiarlo il giocatore potrebbe essere ancora tenuto a riposo. Sta meglio Russo dopo una botta subita in Coppa Italia, mentre migliorano anche le condizioni di Genovali. Nonostante la situazione ancora critica, sono stati tesserati due calciatori, che sono voluti venire a Viareggio. Entrambi arrivano dal Ponzacco, si tratta della centrocampista dell'83 Gabriele Pacciardi e il terzino del 97 Marco Tolaini, che ha fatto parte anche delle giovanili delle spere a Viareggio. Il Re alla Forte Querceta è in trasferta sul neutro di Sarzana contro la Fezzanese, eliminata dal Viareggio Mercoledì in Coppa Italia. Mister Pagliuca, che è squalificato, deve rinunciare a Fabio Biagini, anche lui appiedato dal giudice unico, compreso l'attaccante Fallacchini. In attacco, quindi, il Forte dei Marmi si affida ancora ai gol di Ferretti. Il Ghiviborgo se la vede in casa con il Savona, dopo lo 0-0 con la Fezzanese di sette giorni fa. Il Savona ha perso in casa con l'Argentina, quindi arriverà per muovere la classifica. Chiudiamo con una notizia di basket. L'esordio in Serie C Gold domani pomeriggio alle 18 al Palabrigio di Ponte Pugianese per il Bama Alto Pascio, che affronta la folgore Fucecchio. Un Bama in buona condizione, da punto di vista morale, dopo la qualificazione alle Final Four di Coppa Toscana. Invece ci sono problemi, da punto di vista degli infortunati, perché il centro Vannini, fermo da 15 giorni per un dolore alla schiena, ancora non ha risolto i suoi acciacchi. Domani dovrebbe essere in campo, cercherà di stringere i denti. È tutto per la pagina sportiva del TG, una pausa e poi ancora insieme per la terza parte del TG Noi.